Allora vediamo come si può creare un team velocemente e come eventualmente puoi gestire le eventuali dirette Allora intanto si va in alto a uniscite un team o creane uno Quindi crea un team Una volta fatto questo si sceglie il team classe Si sceglie il nome, quindi in questo caso faccio classe prova Posso effettuare, scrivere una descrizione, però in questo caso non ci interessa, non è obbligatorio Vado avanti A questo punto posso inserire gli studenti Essendo già presenti gli studenti all'interno della piattaforma di Microsoft Team Basta cliccare già le iniziali, i nomi, i cognomi Dovrebbero già venire fuori e quindi li vengono di conseguenza caricati Io adesso faccio degli esempi Facciamo finta che questo è uno studente che deve essere caricato, quindi io aggiungo tutti gli altri E quindi clicco su aggiungi E quindi chiudo Adesso ho caricato questi studenti nella mia classe Ho creato quindi questo team classe prova Posso cliccando su questa matitina Posso cliccando su questa matitina Scegliere ovviamente l'ordine, quindi in questo caso secondaria E eventualmente un'immagine che rappresenti la classe Quindi per esempio questa Perfetto Fatto questo io ho il mio team All'interno del mio team posso iniziare una conversazione Che rimane in questa pagina mondiale Quindi tutti i membri del team possono leggere O posso ovviamente avviare delle riunioni Per avviare una riunione io posso programmarla sul calendario Ma posso anche avviarla direttamente E quindi avvia qui in alto a destra Avvia riunione Condivido qui audio computer Quindi spunto questa parte qui E quindi partecipando Posso in questa fase già aggiungere dei partecipanti Se per esempio devo invitare un genitore ad un colloquio Posso aggiungerlo da qui Oppure direttamente Oppure posso chiudere questa parte Andare qui in alto dove c'è mostra partecipanti Posso quindi aggiungere qui direttamente il nome della persona Con la quale io devo parlare in team In questa diretta Per esempio potrebbe essere il genitore di un ragazzo Con cui io ho il colloquio Quindi aggiungo il nome del ragazzo E di conseguenza viene invitato a partecipare Quindi questo è il modo semplice per poter Eventualmente organizzare un'agenda Io adesso abbandono qui la mia diretta E vediamo invece velocemente in che modo posso Programmare una riunione su prima In questo caso su questo canale classe nuova Quindi io vado in calendario Facciamo finta che a quest'ora Voglia io organizzare una riunione Quindi chiamo sempre la riunione prova Aggiungo anche qui dei partecipanti Però posso anche non aggiungere i partecipanti Il vantaggio è che se io aggiungo i partecipanti I partecipanti sul proprio calendario vedono l'invito Se io non aggiungo loro non vedono nulla Però potranno se sono membri del team Vederlo direttamente all'interno del team La riunione è fissata In che modo? Aggiungendo qui il canale Quindi vado su aggiungi canale Clicco sopra Mi si aprono tutti i miei team Tutti i team che io ho creato Quindi in questo caso devo andare a classe prova Ne ho due Quindi vado quella dove io ho scelto questa icona Come simbolo E clicco su generale A questo punto se io salvo Se mi invia la riunione Se mi invia quindi l'invito E ritorno sul mio team Basta cliccare qui sul team Vedo che è comparso nella parte Nella prima pagina del team Proprio riunione prova Venerdì 24 settembre All'ora è 16.30 Quindi io per partecipare a questa riunione Non farò altro che cliccare su Mi si apre la pagina E quindi partecipa in alto a destra Come ho fatto già prima Quindi spunto questa parte audio computer Partecipo E quindi sono entrato all'interno della diretta Ovviamente se devo In questo caso la videocamera La webcam è spenta Altrimenti potrei attivarla Posso chattare ovviamente con i membri della diretta Posso invitare a partecipare Attraverso questa funzione Quindi nascondi o mostra partecipanti Quindi io posso direttamente cliccando Qui gli iniziali della persona Invitare a partecipare O posso Se ho già inserito dei partecipanti Andare con la manina Sul nome del partecipante E quindi sulla destra di questo Compare la digitura Chiedi di partecipare Quindi si clicca sopra E quindi la persona viene invitata A partecipare a questa riunione